PM Italia, per il fuorisalone di quest'anno, 2017, ha portato una nuova linea di pavimentazioni per esterno a base di inerti naturali e dei nuovi leganti eco-friendly, in grado di ottenere pavimentazioni continue, trenanti e filtranti. I campi di applicazione della linea Urban Design sono ovviamente per l'outdoor, si possono realizzare piazze, vialetti, porti, passarelle ciclopedonali, bordi piscine, tutte le soluzioni dove è richiesta un'alta trenabilità e un impatto estetico naturale basso. Affiancata alla linea esterna, ovviamente c'è anche una linea di interni, di pavimentazioni, di fabbrica. È una tecnica rivoluzionaria, ecocompatibile totalmente e offre questo effetto cool, effetto punto cemento, senza però avere i limiti funzionali che ha la pavimentazione in cemento. Oltre alla pavimentazione della fabbrica presentiamo il terre, che è una pavimentazione realizzata utilizzando terre e pigmenti naturali. Tutte e due le pavimentazioni che proponiamo sono senza sostanze volatili, che per noi è una cosa molto importante. Queste linee viaggiano parallele, però con un'unica vocazione, che è sicuramente l'eco-friendly e l'utilizzo di resine più ecocompatibili possibile, senza solventi e senza sostanze volatili. Grazie a tutti.